Guarda cosa fanno, guarda cosa fanno a quest'uomo, Ponte Vecchio, Firenze, bravi, bravi, complimenti, guardate le facce, guarda la faccia di quest'uomo, guarda la faccia, guardate la faccia di questi sbirri qua, guardate la faccia di questi, davanti al Ponte Vecchio ragazzi, Firenze, guardate la faccia di quest'uomo, guardate il fa il sorriso in telecamera, anche te cucciolo fa il sorriso? Vabbè, uno che prendeva i braccialetti, capito? Che si abbazza di strozzarlo? Che si abbazza di strozzarlo o no? A me non sembra che scappa. Ah no, gli sta uscendo la bava dalla bocca, mi sembra. Ma sì, com'è che hai detto? Com'è che hai detto pubblico ufficiale, vai a fare in culo, hai detto? Ufficiale, ha detto forse vai a fare in culo? Ma non è che le palle, siamo lavorati. Io c'ho le palle di grosso. Questa è interruzione di pubblico servizio, ricorda. Cosa sto interrompendo, scusa? Questo è il pubblico servizio? Guarda tutto il sangue. Stava vendendo i braccialetti, guarda i braccialetti. Braccialetti! Questo non è vero. Perché fanno questo a lui? Sì, se vieni da posto andando a lui?